Ciao! In questo video voglio parlarti delle consociazioni nell'orto. È una parola difficile, lo so, ma il concetto è molto semplice. Indica quelle piante che possono essere coltivate insieme per aiutarsi. Mettere due piante vicine nell'orto, infatti, permetterà sia l'una che l'altra di difendersi da malattie e parassiti. Un po' come facciamo noi con i nostri amici. Due piante che vicine si aiutano a vicenda, ad esempio, sono il pinocchio e la cipolla. Povero pinocchio, però, chissà quanto gli verranno a piangere. Il pinocchio, invece, non va affatto d'accordo con il pomodoro. Meno male che sono piantati in tempi diversi, almeno. In ogni caso, ricordati di tenerti sempre lontani. Grazie di avermi ascoltato. Ci vediamo settimana prossima. Ciao!